Perfetto, quindi benvenuti a tutti anche da parte mia, sono appunto Paolo Pialorsi e adesso parleremo per circa 40 minuti di come si può automatizzare il provisioning di Teams, non soltanto con strumenti PMP ma sicuramente anche con strumenti PMP perché come dicevano prima gli altri ragazzi, insomma sono abbastanza addicted al mondo di PMP. Due parole velocissime su di me, sono appunto Paolo, di lavoro faccio il project manager e il consulente, di quando in quando ma non troppo di frequente il trainer perché poi mi annoio a ripetere le stesse cose quindi cerco di variare seguendo progetti più che corsi, ho una mia società piassist.com che è basata in Italia e negli Stati Uniti e forniamo servizi di consulenza appunto sulle aree di cui mi occupo, quindi Microsoft 365, SharePoint Online, Teams e tutto quello che ci gravita intorno. Sono membro del core team di PMP dal 2015 se non sbaglio e gioco forza quindi oggi vi parlerò anche di un po' di cose di PMP perché mi stanno molto a cuore. Ho scritto qualche libro qua e là in questi anni, ogni volta che avevo un figlio avevo le notti in bianco e quindi potevo scrivere, adesso non sto più facendo figli dopo il terzo direi che posso essere a posto e quindi negli ultimi due anni non ho più scritto nulla. Potete seguirmi su Twitter at Paolo Pia e potete fare subscribe sul mio canale YouTube che trovate a questo supposed to be short link perché non è così short ma pss.com slash techbytes. Di cosa parliamo oggi? Dunque innanzitutto cerchiamo di capire perché ci possa essere l'esigenza di automatizzare il provisioning di Teams e quindi poi andremo a vedere a vari livelli di approfondimento e di in qualche modo complessità come si possa automatizzare questo provisioning con vari strumenti quindi partendo da le funzionalità out of the box di Microsoft Teams per arrivare a Microsoft Graph per arrivare a PMP. Quindi partiamo dal vero quesito perché? Perché siamo qui perché vale la pena spendere 40 minuti insieme a parlare di provisioning di Teams. Beh perché fondamentalmente almeno per quella che è la mia esperienza molte delle aziende che usano e adottano Teams gradiscono dare ai loro utenti, utenti finali, la facoltà di creare dei Teams in autonomia ma di crearli sulla base di modelli predefiniti o preapprovati dall'IT, dalla security, dai reparti preposti all'interno dell'azienda. E quando parlo di predefiniti, preapprovati, riferendomi al concetto di template intendo magari la definizione di come il team sarà fatto in termini di canali che avrà, tab che avrà nei vari canali, eventuali messaggi di benvenuto che possiamo dare in modo automatico dentro ai canali, preinstallare le app e operazioni di questo tipo. Quindi di fatto preparare dei modelli che poi riutilizziamo ogni volta che vogliamo creare un team sulla base di quei modelli appunto. L'idea è, scusate la frase un po' così, un po' forzata, ma è di dare una libertà controllata, una libertà vigilata ai nostri utenti. Cioè agli utenti diamo la sensazione di essere liberi di creare ciò che vogliono, ma in realtà sono liberi di creare ciò che noi vogliamo che loro creino. Troppo complessa come frase, forse sì, però ci siamo. Cosa Paolo? Sì? Cosa Paolo, devo non ti rompere, ma hai condiviso, viso a studio e basta, non vediamo le slide. Ah davvero? Ma che bello? È perché sto imparando a usare Teams in questo periodo. Allora, ti, allora, devi andare su share, poi c'hai l'elenco o del discrino o della finestra che vuoi condividere, clicchi su quella. Ok, vediamo se adesso funziona. Lo vedete adesso? Perché in realtà ho fatto così anche prima, ho condiviso lo schermo anche prima. No, vediamo viso a studio e basta Paolo. Ma è fantastico. Ah ok, ma perché sto facendo, ma che fantastico questa cosa. Teams mi ha dato la preview sbagliata. Fantastico. Ok, allora andiamo a prendere. Succede. Ok. Adesso lo vedete. Ecco, perfetto. No, no, sei già live. Quello che stavate vedendo è un progetto a cui stiamo lavorando come PMP che vedrà la luce per un po' di mesi. Se avete dato un'occhiata a te, magari vi siete già fatti un'idea. No, è che pensavo avessi meno slide, quindi ho detto al limite, non vedo due slide, fa niente, però visto che ce l'avevi diverse. No, 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 hai fatto benissimo interrompermi, anche se questo ti costerà caro, come sai, però no, hai fatto scherzi a parte, hai fatto benissimo e ti ringrazio, ero convinto che stai stai vedendo le mie slide, un progetto che peraltro non c'entra niente con questa sessione. Dicevo, diamo una sorta di libertà vigilata ai nostri utenti perché li lasciamo liberi di creare i team, ma secondo dei template che definiamo noi a livello aziendale. E l'idea non è soltanto di arrivare a definire il template da un punto di vista di Microsoft Teams, ma in realtà di poter fare anche di più e vedrete su vari livelli come e quanto ci possiamo esporre in questo senso, ma io posso arrivare non solo a fare il provisioning automatizzato di un team con la sua infrastruttura, ma anche magari di uno SharePoint online a supporto di quel team, che magari può essere esattamente lo SharePoint online che sta dietro ogni team che noi creiamo, perché sapete che quando creiamo un team in realtà andiamo ad allocare una serie di risorse nei vari workload di Microsoft 365, quindi Exchange Online, Azure Active Directory, SharePoint e via discorrendo. E si può arrivare ad avere un template a tutto tondo che rilasci e faccia il provisioning di tutti questi workload, degli oggetti all'interno di questi workload per i nostri utenti, magari anche con meccanismi di upload di documenti predefiniti e con meccanismi di approvazione di quelli che sono i flussi di provisioning dei nostri utenti. Quindi scenari secondo me abbastanza interessanti e che per la cronaca nell'ultimo almeno un anno e mezzo, ok, mi hanno visto molto coinvolto su diversi clienti, quindi evidentemente o sono sfortunato io che tutti i clienti vogliono questo, oppure effettivamente c'è una reale esigenza richiesta da parte del mercato di questo tipo di funzionalità. Non a caso d'altra parte, Microsoft stessa ha recepito il feedback dal mercato e dalla community e quindi da poche settimane direi ha reso disponibile in GA, General Availability, la possibilità di creare dei template nativamente out of the box in Microsoft Teams. Di cosa stiamo parlando? Intanto un amministratore di Teams può creare a livello di interfaccia amministrativa e vedremo tra poco come, dei template nei quali può impostare delle impostazioni generali, dei settings generali del team, definire i canali e definire le app da installare in modo automatico nei team che verranno creati sulla base di quei template. Poi gli utenti finali quando creano un team avranno la facoltà di scegliere se crearlo from scratch, quindi da zero, tavolozza bianca, ovvero se partire da alcuni dei template che gli amministratori hanno reso disponibili. In realtà Microsoft fornisce già un set precotto di template di uso comune che secondo loro possono essere comodi per tutti e poi noi possiamo estendere questo set di template aggiungendo nei nostri di custom. Quindi andiamo a vedere di cosa sto parlando, speriamo adesso che io sia sullo schermo giusto, ma direi di sì, dovreste vedere il mio Teams nel mio ambiente di sviluppo. E qui io posso, per darvi l'idea, come utente finale dire che voglio creare un nuovo team, create team, e come vedete ho la facoltà di partire from scratch o da un gruppo che vado a convertire, ma posso anche attingere da un elenco di template che vedete abbastanza folto in questo caso. Tutti quelli che vedete nella parte bassa sono out of the box fino a manage project e manage an event e adopt Office 365 e quindi poi abbiamo dei template che posso aver creato io a livello amministrativo all'interno della mia infrastruttura. Allora, quando io creo un team sulla base di un qualsiasi template, proviamo a usare uno di quelli out of the box, per esempio occupiamoci della adottazione di 365, io vedo che questo template include 5 canali e include un'app wiki che verrà configurata all'interno del mio team. Lo creo privato, va benissimo, gli do un nome che può essere bootcamp01, perché non ho fantasia, create. A questo punto cosa succede? Parte la creazione del team e successivamente il provisioning delle risorse definite nel template, che significa che il team lo vedrò da subito e da lì a alcuni secondi o minuti, dipende da quanto è complesso il template che sto applicando, il team sarà completo e avrà tutte le funzionalità previste dal suo template. Tant'è vero che la finestrella mi dice, sentiti libero di chiudere e quando saremo pronti te lo faremo sapere. Io chiudo, il mio team ce l'ho già, in questo momento è ancora acerbo, non è pronto, il provisioning sta andando in background e quando sarà completo avrò una notifica che mi dirà, guarda che il tuo team adesso è pronto. Bene, un amministratore di Microsoft Teams, se andiamo all'interfaccia amministrativa di 365 e andiamo su Teams, quindi sulla parte amministrativa di Microsoft Teams, avrà nella primissima sezione, quella dei Teams, la Team Templates section e qui potete vedere quelli che sono i team già definiti da Microsoft, da Adopt in giù, diciamo, più eventuali template custom. Creare un template è veramente banale, clicco su Add, scelgo di crearlo da zero, di crearlo a partire da un altro team che ho già creato io, per cui magari col mouse e l'interfaccia mi definisco un team e poi lo faccio diventare un template da riusare, oppure posso estendere un template già definito da Microsoft semplicemente customizzandolo da Microsoft o da me per la verità, quindi un altro template che già esiste. Se lo creo from scratch da un brand new template, fornirò un nome, bootcamp template, darò una descrizione che ovviamente sarà uguale perché sono totalmente privo di fantasia, sarà in inglese e poi qui vado a definire i miei canali, avrò il canale general, avrò il canale help, avrò la possibilità di definire delle app e quindi posso andare a aggiungere da una selezione di app quelle che voglio avere all'interno del mio team template e via discorrendo. Quindi posso muovermi con questa interfaccia quando ho finito, submit e avrò salvato il mio template. Ora, la cosa interessante è che fatto questo, da lì a pochi minuti, ecco non aspettatevi che non appena creato il team template possiate tornare indietro e subito creare un team con quel template. Infatti se vedete io qui non ho ancora la disponibilità di quel template e è possibile che ci vogliano diversi minuti perché si renda disponibile. Tendenzialmente non è un problema, non è che lo create adesso perché vi serve fra un minuto o se la situazione è quella c'è un problema, però diciamo facendo una giusta pianificazione io creo il template e da lì a alcuni minuti ce l'avrò a disposizione. E questa è una funzionalità out of the box, quindi già che aiuta gli utenti senza dover sostanzialmente fare niente da un punto di vista della programmazione. Però noi siamo a una sessione che si rivolge anche principalmente a sviluppatori, quindi vogliamo fare un pochino di più. Allora in Microsoft Graph noi abbiamo la facoltà di creare dei teams tramite REST API, quindi io posso fare delle chiamate REST e creare dei team di Microsoft Teams programmaticamente. Bene, quando lo faccio posso anche in realtà da sempre specificare un ID identificante del template da usare. Fino a qualche settimana fa quando i team template non erano ancora stati rilasciati, noi si poteva fare riferimento sostanzialmente solo a una codifica che si riferiva al team standard, che è quello equivalente alla creazione from scratch, la creazione dal nulla, dal vuoto di un template vuoto. E in alternativa sui tenant education c'era la facoltà di creare dei team a partire da template dedicati al mondo education, quindi il template di classe, il template di gruppo degli insegnanti e cose di questo tipo. Bene, da quando è disponibile in GA la facoltà di creare dei team template da interfaccia utente, lo si può fare anche da Microsoft Graph. E quindi tra poco vedremo come operativamente io posso andare a usare Graph per creare un team sulla base di un template che ho definito. Informazione importante, i template out of the box di Microsoft hanno un nome, quindi l'ID che li identifica e che userò in Graph per dire voglio creare un nuovo team con quel particolare template, li riferenzierò con un nome, una URI che in modo parlante descrive quello che è il team. Quelli custom hanno un GUID perché tutti gli sviluppatori adorano i GUID e chi non li adora scagli la prima preta, ma i GUID sono quelli che si usano per tutti quelli custom. Cosa possiamo fare con questa funzionalità? Beh, molto semplicemente possiamo ad esempio in una Azure Function possiamo automatizzare il provisioning di un team tramite Graph e poi con strumenti quali Power Automate, Power Apps, un bot, via discorrendo, possiamo andare a invocare questa function che farà il provisioning in background per noi di un team usando il template selezionato o dall'utente o da noi a livello di preconfigurazione della nostra funzione. Quando parlo di questo argomento faccio spesso riferimento a un caso d'uso particolare che avevo anche illustrato credo un paio d'anni fa in una conferenza alla European SharePoint Conference di un bot al quale ci si può rivolgere con linguaggio simile naturale e con strumenti di natural language processing, dall'altra parte il bot può capire la richiesta e agire di conseguenza. Tra le richieste nella demo che avevamo mostrato a suo tempo c'era ho bisogno di creare un nuovo progetto, ovviamente era o in inglese o in dialetto bresciano che si poteva parlare con questo bot e il bot a fronte del comando che riceveva andava a creare un team secondo il template che gli veniva descritto a livello di definizione. Quindi l'idea può essere anche quella, potete fare un bot che consente agli utenti di dire ho bisogno di creare un nuovo progetto che si chiama XYZ. Bene, il bot interpreta l'informazione ricevuta, fa partire con Graph e con un Azure Function il provisioning automatizzato di un nuovo team, oggi abbiamo anche i template per farlo secondo un modello predefinito e quando ha fatto dice ok ti ho creato il nuovo team per il progetto tal dei tali. Può essere uno scenario d'uso interessante direi. Scusate, avevo bisogno di un po' di carburante. Quindi come ci muoviamo in Microsoft Graph quando dobbiamo andare a creare un team? Torniamo sull'ambiente dimostrativo e a questo punto focalizziamoci su Microsoft Graph. Graph Microsoft.com è l'end point dove dovete andare per muovervi all'interno del mondo di Microsoft Graph e nello specifico, già in versione 1, quindi non c'è bisogno di andare sulla beta di Microsoft Graph, avete sotto la V1 nella sezione Teamwork Team, Create Team, che è un'azione che potete utilizzare per creare una nuova istanza di team all'interno di Microsoft Teams ovviamente. Si tratta di fare una richiesta post HTTP verso l'end point Teams della versione di Graph che volete avere in target. Per farlo servono questi permessi e potete farlo o con delegated access token, quindi per conto di un utente connesso in quel momento alla vostra applicazione, nel qual caso i permessi necessari sono uno di questi, quindi o Teams Create, che è relativamente nuovo, o Group Read Write All, o Directory Read Write All, oppure a livello application, quindi se volete fare una qualche cosa, una qualche applicazione che gira batch in background app only, potete fare anche quello, i permessi sono quasi gli stessi come vedete e l'aspetto interessante è che potete pensare a uno scenario in cui io ho l'utente sul front end che fa una richiesta di provisioning di un team secondo un certo template e nel back end, di nuovo una Azure Function, potrebbe usare Microsoft Graph per creare il team in modalità app only, quindi scenario decisamente interessante. Per farlo ovviamente dovete fornire un authorization header che contenga l'access token di open authorization e nella richiesta dovrete dire in formato JSON quelli che sono i settings, questi sono quelli minimi per il vostro team. In realtà in questa parte vedete che c'è questa proprietà template at odata.bind che ha questo nome e qui tra gli apici viene indicato il nome del template da utilizzare, che può essere standard, quello predefinito, che corrisponde al template di un team built from scratch o potrebbe essere il nome di un template specifico che volete utilizzare. Proviamo a giocarci un attimo. Mi prendo il JSON, vado nel Graph Explorer che potete sempre raggiungere quando andate su graphmix.com da qui nel menu in alto avete Graph Explorer, sono già dentro il mio tenant col mio account, vado a fare una richiesta post con l'endpoint v1 del graph verso la collezione dei teams e voglio aggiungere un nuovo team. Però invece di usare il template standard, voglio per esempio andare a prendere uno dei template che ho già, per esempio uno di quelli out of the box o uno mio custom. Quelli out of the box, se ci entro, vedete che qui hanno un template ID e questo è il nome, è la stringa che dovete fornire al graph per dirgli qual è il template out of the box che volete utilizzare. Viceversa, se si tratta di un template custom, avrete, come vi accennavo prima, un GUID che dovrete utilizzare, ovviamente non sarà parlante. Attenzione che il GUID cambia in base al tenant su cui fate il deployment, quindi dovrete prevedere dei meccanismi di configurazione. Al momento che mi risulti non ho presenti API per alimentare in modo automatico la collezione dei template e questo è un peccato, magari un domani, chi lo sa, se come community chiederemo e insisteremo, potrebbe esserci qualcosa del genere, ma sarebbe carino avere anche un API per alimentare in modo programmatico questa collezione di template, perché se io sono un società, un partner che vuole andare su centinaia di clienti e avere gli stessi template su tutti, sarebbe carino poterli caricare in modo automatizzato. Allora vado nel Graph Explorer e dico che il template che voglio utilizzare è quello che ho appena copiato. Lo chiamiamo Bootcamp02, come potrete immaginare, Bootcamp02 e ovviamente la descrizione, chi potrà mai indovinarla, Bootcamp02 e vado a eseguire questa operazione. Faccio una post verso quell'end point. Lui ci lavora, ci sta pensando, mi dà un 202 accepted, quindi inizia a lavorarci, tant'è vero che se torno in Teams vedrò che c'è già il Bootcamp02 che sta comparendo e sta iniziando ad essere generato. Vedete che nel frattempo l'altro è sostanzialmente pronto, ho i vari canali che erano previsti e quindi ho il mio team completamente provisionato, parola italiana sicuramente c'è sullo Zanichelli e il Bootcamp02 invece man mano arriverà pronto anche lui nel giro di alcuni minuti da adesso. Ora non ho utilizzato direttamente il guide del mio template appena creato per il bootcamp di oggi, per la semplice ragione che anche questo ci mette alcuni minuti e quindi se provassi adesso, molto probabilmente mi beccherei un simpatico errore se dovessi fornire questo guide, ma a livello teorico senza farlo appunto perché molto probabilmente diciamo 99 su 100 mi beccherò un errore, se vi piace vedere gli errori perché avete del sadismo possiamo anche lanciarlo, ma probabilmente magari cambiamo comunque il nome, sa mai che stavolta invece vada e mi dia poi un errore diverso, ma vado a cercare di creare il Bootcamp03 e forse invece ce l'ha fatto, visto, mai dire mai, era già pronto, è stato più veloce del solito, ho già potuto utilizzare il guide del mio template custom o il Bootcamp03 e poi continuerà il provisioning. Quindi però assumete che normalmente ci vogliono alcuni minuti perché venga pronto, quindi non fatelo subito di corsa. Ok? Ora abbiamo visto che ci sono i team template out of the box, abbiamo visto che si possono sfruttare programmaticamente con il Microsoft Graph, ma c'è ancora qualcosa che possiamo fare. Nello specifico, quando facciamo il provisioning di un team, almeno per quella che è la mia esperienza di nuovo, quindi può essere un punto di vista soggettivo, ma tipicamente i miei clienti non si accontentano del provisioning del team in quanto tale, vogliono qualcosa di più. Allora, in PMP, da ormai credo quasi cinque anni, forniamo una cosa chiamata PMP provisioning engine, che è un motore, come stesso lo dice, che può fare il provisioning di artefatti su 365, nei vari workload di 365 che supportiamo, a partire da dei template. Questa parola oggi è molto ricorrente, mi spiace. Questi template in PMP non sono altro che dei file che definiscono degli oggetti che vogliamo andare a creare o configurare sull'infrastruttura in target, che è 365. I workload di 365 che supportiamo sono SharePoint Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business e Microsoft Teams. Ad oggi questi sono i workload principali, più una serie di settings a livello di tenant. Questo significa che io posso creare dei file che nello specifico possono essere o dei file XML o dei file .pnp. Ci siamo presi la libertà di battezzare una nostra estensione di file. In realtà sono semplicemente dei file OpenXML, quindi dei file zip andando in soldoni, dentro cui con una particolare struttura gerarchica sono salvati tutti i file che ci servono. Perché abbiamo due formati? Perché il formato XML è quello più semplice. Quando io devo definire un template di provisioning, abbastanza banale, che non ha bisogno di file esterni o che non ha bisogno di molti file esterni, diciamo così, posso fare un file XML, lo definisco, posso addirittura anche estrarlo da un ambiente dove ho già definito a mano io quello che mi serve, poi estrarre il template e riusarlo, e poi me lo porto in giro come file XML. Il fatto è che questi template possono far riferimento anche a file di supporto esterni, possono fare riferimento a file di risorse, se magari io voglio avere un template che supporti il multilingua, posso avere dei file che voglio caricare come upload, quindi quando ho creato il sito, quando ho creato il team, i Microsoft Teams, voglio precaricargli dentro dei documenti template, e quindi può diventare poi impegnativo portarsi presso vari clienti un file XML e n file collegati. motivo per cui ancora ormai almeno tre anni fa abbiamo introdotto questo formato OpenXML.pnp che diventa uno zip con dentro tutto, quindi io posso girare con un unico file .pnp che è il contenitore sia dell'XML sia di tutte le dipendenze di cui ha bisogno quell'XML per funzionare. In questo modo io con un unico file mi porto in giro un template riusabile. Qual è il fine? Beh, che posso utilizzarlo di nuovo in PowerShell, lo posso utilizzare in C Sharp o genericamente parlando in .NET, da poco tempo sia .NET Framework che .NET Standard o Core perché abbiamo una dipendenza forte dal client object model di SharePoint, il quale fino a poche settimane fa era solo per .NET Framework, ma adesso è anche per .NET Standard e .NET Core, quindi possiamo utilizzarlo anche in Core o applicazioni standard e ovviamente potete usarlo anche in Azure Functions. In generale poi ovunque riuscite a invocare codice .NET o codice PowerShell. Per esempio qui si parlava nella sessione precedente con Patrick di quando si potrebbe usare CLI, al momento se non erro dentro CLI non c'è un'implementazione che supporti il provisioning engine, si possono fare tutta una serie di operazioni di provisioning singolarmente invocando i comandi, ma non c'è un comando che faccia il provisioning a partire da un template perché abbiamo valutato come PMP che sarebbe stato fin troppo complesso arrivare a avere quel livello di supporto anche dentro CLI. Quindi abbiamo preferito invece, compatibilmente con i tempi di rilascio anche di Microsoft, di client object model di SharePoint per .NET Core, abbiamo preferito supportare Core appunto e rendere quindi multi piattaforma il provisioning ancora utilizzando l'engine tradizionale, ma andando poi tramite .NET Core cross platform. Quindi quello che possiamo fare è o con un delegated access token, quindi on behalf dello user che ci fa la richiesta, o con un application only token, andare a applicare questi file di template a un target tenant, che vuol dire andare a creare nel target tenant dei siti SharePoint, degli utenti in Active Directory, delle risorse in OneDrive for Business, dei teams in Microsoft Teams. E un altro aspetto interessante è che con questa modalità di lavoro io non sono, scusate è un termine che può sembrare brutto, ma è solo per capirci meglio, non sono limitato al provisioning di un solo team. Quello che abbiamo visto fin qua con i team template e col graph fa sì che noi possiamo creare un team con un template. Ma cosa succede se io ho il requisito di fare il deploy da un cliente di una soluzione che richiede n team con n diversi template? Ovviamente posso lanciare diversi comandi n volte, ma avere un unico modello, un unico file che mi dia la definizione di n team tutti insieme, quindi io ho una sorta di pacchetto di installazione della mia soluzione che include i modelli di team che me li crea, che gli installa dentro eventuali estensioni SharePoint Framework, come avete visto fare da Giuliano stamattina, tutto questo è fattibile con un template di PMP provisioning. Quindi andiamo a vedere un'ulteriore demo e a capire questo come possa essere utilizzato. A tal fine vado a prendere Visual Studio Code e qui abbiamo un provisioning template intenzionalmente in formato XML, perché il .pmp diventava un po' scomodo aprirvi lo zip e farvi vedere la struttura interna, quindi è un template semplice, ma questo template definisce già una serie di cose che ritengo interessanti e ci dà delle informazioni utili per scoprire quello che è il potenziale di questa modalità di lavoro. Prima fra tutti, quando creo un template, che è appunto un file XML, ho una sezione di preferenze dove posso impostare dei parametri. Quindi io posso creare dei template parametrici che posso chiamare più volte semplicemente andando a cambiare i parametri di input. E già questo, per chi rivende soluzioni o riusa le stesse soluzioni, ne volte diventa interessante. Poi ho una sezione in cui definisco dei template che hanno come target dei siti SharePoint. Ho una sezione dove definisco delle sequenze di site collection SharePoint online che voglio creare. Per la cronaca il provisioning engine targettizza anche SharePoint on-premises, ma ovviamente lì non c'è Teams e quindi oggi non ci interessa. In generale ultimamente ci interessa sempre meno il provisioning on-premises personalmente parlando. Fortunatamente gran parte dei miei clienti stanno andando online, ma comunque per chi ha ancora delle dipendenze sull'on-premises sappiate che il provisioning va anche lì. E poi c'è la sezione Teams che ovviamente è squisitamente solo per l'online, dove io definisco i team di cui voglio fare il provisioning. Cerchiamo di leggere per sommi capi questo file XML. Qui io dico che voglio creare una site collection in una collezione di site collection, quindi potrei crearne più di una, ma qui per semplicità ne creo una sola, dove dico che ho una site collection che sarà un team site, che sarà pubblico, che sarà un hub, quindi do tutta una serie di caratteristiche di configurazione di questa site collection e dico che a questa site collection voglio applicare un template che si chiama project template, che è definito poco sopra e che adesso andremo a vedere. In più do un ID, un identificatore univoco a questo sito, all'interno di questo template, così che se ci sono altri punti nel template dove devo riferirmi a questo sito, che non esiste ancora in questo momento, perché io sto solo definendo quello che verrà poi fatto, ma posso usare questo ID per riferirmi all'oggetto virtuale site collection che verrà creato dal mio provisioning template e questo ci verrà molto utile tra poco. Allora io dico che creo questa site collection e dico che le applicherò un template che fa una serie di cose neanche troppo complesse, crea delle site column all'interno di quella site collection, crea un content type che usa quelle site column e poi va a creare un'istanza di una libreria chiamata progetti con all'interno una variabile che si riferisce ai parametri in input dentro cui referenza quel template, scusatemi, quel content type. Quindi di fatto nel fare il provisioning del site collection gli schiaffo dentro una library con un custom content type e con delle custom column. Poi però ho il mio team che dice io sono il team che estenderà il gruppo con l'ID corrispondente al sito creato qua sopra. Tradotto in soldoni, questo team che verrà creato è quello agganciato alla site collection di qui sopra. Imposto le configurazioni del team, decido quali canali voglio avere, quali tab voglio avere, voglio dare un messaggio di benvenuto e via discorrendo. Faccio tutto questo e applico questo template al target environment. Cosa vuol dire? Che via PowerShell mi collego a un tenant in target. Quindi andiamo a fare una bella run selection e mi collego al mio tenant in target. Quindi dico apply PMP tenant template, dico qual è il file XML template o il file .pmp, fornisco eventuali parametri, mi prendo i default e lui farà il suo lavoro di provisioning. Quindi run selection e lui adesso parte e inizia a crearmi prima la site collection, poi il team come upgrade di quella site collection e poi gli fa dentro il provisioning di tutti gli artefatti che ho deciso. Direi abbastanza comodo e ricordate che posso usarlo per creare n team. Lo lascio andare perché ci metterà un pochino e vi do ancora un paio di informazioni per avvicinarmi come dire alla chiusura di quella che è questa sessione. Uno scenario assolutamente tipico e ricorrente è quello in cui i clienti non solo vogliono fare il provisioning automatizzato dei team con i template nativi o con dei template custom di PMP ma anche quello in cui i clienti vogliono avere un processo di approvazione così che io sostanzialmente tolgo la possibilità di creare autonomamente i team ai miei utenti e poi però gli do un form da compilare così che gli utenti finali vanno su Teams magari in un custom tab poi vedremo un esempio compilano un form questo form tipicamente ma non ce l'ha ordinato il medico però crea un item su SharePoint questo è un caso abbastanza ricorrente almeno nella mia personale esperienza da lì abbiamo Power Automate con un flow di autorizzazione e qualcuno preposto a autorizzare potrà decidere se dire sì o no alla creazione del team così possiamo introdurre tutta una serie di regole di validazione eccetera se ovviamente rifiutiamo la richiesta un bel due di picca l'utente se invece accettiamo la richiesta di creazione a quel punto con varie tecniche più o meno scalabili più o meno performanti per esempio questa è la migliore ma richiede un po' di complessità in più un po' di competenza in più ma vado a accodare nel service bus di Azure un messaggio di creazione del team così che poi dall'altra parte avrò una Azure Function attivata triggerata dalla presenza di un messaggio nel service bus e questa Azure Function andrà a fare il vero provisioning a notificare all'utente il fatto che il provisioning è completato e che il suo team è pronto il suo team e eventualmente le site collection tutte quelle che sono le risorse coinvolte nell'attività di provisioning ok allora diamo un'occhiata veloce giusto per avere un'idea a questo tipo di scenario dove per esempio appunto adesso sono uno sviluppatore dichiaro a mani elevate che non sono un grafico e quindi qui vedete il massimo che io riesco a fare in termini di qualità grafica e vi assicuro che è tanto per quelli che sono i miei standard perché ho cambiato il colore di sfondo e quindi questo è già qualcosa ma ho definito una custom web party in SharePoint Framework di cui sto facendo hosting all'interno di Microsoft Teams e qua posso dire che voglio fare il provisioning di un boot ce la posso fare bootcamp04 che è l'ultimo che mi rimane intanto vedete che anche il project è arrivato sta arrivando il provisioning avrò un certo alias che può tranquillamente essere bootcamp04 ancora avrò degli owners magari io sarò l'owner insieme al mio compare guido saremo owner poi mettiamo due membri che saranno Jessica e il buon Christian e andiamo a prenderci un template di riferimento vedete che ho la facoltà al mio utente di scegliere un template di riferimento e quindi faccio la request provisioning cosa succede? che viene creato un item in una lista quindi vengo qui trovo che c'è il mio item trovo che è requested in questo momento ho un flow in power automate che entrerà in gioco che gestirà presumibilmente a breve la richiesta di provisioning e il flow in questo momento quando riceverà la richiesta che ce la puoi fare a questo punto andrà a fare che cosa? andiamo a vederlo intanto che lui ci pensa vi do un'idea quando un item viene creato in quella lista parto con un flusso di approvazione se l'approvazione va a buon fine quello che farò è chiamare con un HTTP trigger un endpoint esterno che sarà una mia Azure Function che riceverà in formato JSON le informazioni sul team da creare sui membri sugli owner e via discorrendo e poi potrò una volta creato il team vedermi l'outcome all'interno dello stato dell'item nella mia lista SharePoint potrò eventualmente aggiornare l'URL del team e quant'altro se vogliamo andare a vedere intanto quello sta girando andare a vederne un altro che è già girato per darvi l'idea di quello che arriverà alla Azure Function nella Azure Function voi manderete un messaggio di questo tipo dove gli dite cosa deve creare gli passate gli owners e i members come oggetti con tutti i claim l'email eccetera e così facendo l'Azure Function dall'altra parte processerà la richiesta come potrà essere un Azure Function che usa PowerShell faceva riferimento a questo scenario anche Patrick prima potrà essere un Azure Function fatta con .NET Core e che usa quindi la nuova versione della libreria PMP Sites Core che supporta anche .NET Core quindi sta a voi valutare cosa utilizzare potrebbe usare semplicemente il MaxoGraph per fare il provisioning del team a voi la scelta ma questa è un'idea di come potete muovervi per gestire quello che è il flusso quindi torniamo a noi avete avuto un'idea di quella che può essere una soluzione diciamo così di fascia più elevata di provisioning dove sapete che al di là del cavo nella Azure Function potete fare operazioni anche di alto livello come creare siti creare teams collegarli fra loro creare un app di site e quant'altro sono scenari abbastanza ricorrenti in applicazioni business reali che personalmente vedo abbastanza di frequente presso clienti quindi detto questo come al solito c'è il modulo di feedback per la sessione vi prego di compilarlo e farci sapere come stiamo andando vi ringrazio per avermi seguito fin qua credo di avere qualcosa tipo 4 minuti per il Q&A corretto sì Paolo hai delle domande non so se te le rego io prima di Luca che salutiamo tra l'altro il nostro caro amico ha detto quando saranno disponibili i template sui tenant edu scusami quando saranno disponibili sono disponibili nei tenant edu quindi se tu crei un tenant edu hai accesso a quei template se non crei un tenant edu non hai accesso a quei template ok ok va bene quindi devi andare devi creare un tenant diverso per avere un tenant edu puoi crearlo quello si quello Luca è abbastanza afferratissimo su quello però credo che si riferisse a dei template che non ha sul tenant edu credo ora poi magari ci scrive ancora se ci scrive ancora specifica meglio comunque ci sono alcuni template di team disponibili ma sono lato lato edu per cui deve avere un tenant con le licenze edu per avere accesso a quel tipo di template adesso vediamo se magari non abbiamo capito noi la domanda ci scrive un po' di più se no comunque ci trova tanto sempre offline non è un problema poi l'altra domanda è ma i template personali si possono esportare in qualche modo e importarli manualmente su un altro tenant grazie era appunto il discorso che facevo prima al momento l'idea è che i singoli amministratori si rigestiscono nel singolo tenant per quanto so non mi risulta che ci siano delle API per fare export o import non so se sono in cantiere lo spero in verità ma il concetto è che ad oggi lavori nel tuo tenant e se devi lavorare in 10 tenant devi fare 10 volte la stessa cosa motivo per cui tendenzialmente io scusate ma al momento continuo a usare ancora i template di PMP perché quelli li posso spostare dove voglio ok aspetta che Luca non ci sono ancora i template in interfaccia web di Teams per l'edu solo PowerShell ok beh sa che dall'interfaccia era il mio dubbio che avevo no in realtà però perdonatemi io anche di recente visto il periodo non proprio ottimale per vivere in questo mondo ho dovuto aiutare un paio di scuole a tirar su dei tenant edu l'ho fatto ovviamente molto volentieri e in quelli quando crei il team hai la facoltà di scegliere il template sia dall'interfaccia grafica che poi ci sono anche a livello di graph e non ricordo sinceramente perché non sono andato a vedere se li trovi comunque nella sezione dei team templates nell'area amministrativa quello francamente non sono andato a vederlo quindi non so se ci sono lì però dalla UI di Teams come utente quando fai new team li puoi scegliere e da graph si può usare se me Luca si riferisce sulla parte di amministrazione che anche io non ricordo di averli visti devo controllare devo controllare perché lì non sono andato a controllare però comunque quando sei in un tenant edu quelli sono come dei template predefiniti e quindi ce li hai a livello di utente quando fai new team li puoi scegliere e li puoi usare anche da graph e li funzionano con graph anche perché tenant edu è un tenant un po' strano quindi non è proprio uguale agli altri c'è anche una cosa molto carina che negli altri tenant non c'è questo mi dà molto fastidio e cioè tu puoi creare un team e lasciarlo visibile solo agli owner e non ai member così che tu puoi preparare completamente la classe e quando è pronta la rilascia a tutti gli studenti questo è bellissimo però sarebbe bello anche negli altri tenant ma non c'è adesso non è che puoi pretendere tutto ti fai un'estensione Paolo sì però stasera ho una call con Satya e gli farò presente questa cosa mi ha chiesto lui di avere qualche consiglio allora stasera poi c'è un'altra domanda è possibile configurare le app all'interno di un tab ad esempio se inseriamo un app planner il nome del planner da creare allora ad oggi con i team template no l'inserimento dei tab e delle app è molto molto limitato si può fare qualcosa non è banalissimo usando il provisioning engine però abbiamo in piano lì di investire un po' di più il nostro tempo e far sì che sia più semplice preconfigurare che so il foglio one note piuttosto che il plan eccetera perché al momento anche se usi PMP è tutt'altro che banale arrivare a ottenere questo tipo di risultati lo so se no c'è sempre il nostro easy life che potete comprare così esatto infatti noi non stiamo rilasciando queste funzionalità perché vogliamo garantire comunque Emanuele un lavoro esatto grazie anche se rilasci visto che sono open source vado lì e ti faccio cancellare le modifiche c'è una bella pur di questo quindi non è un problema ma no a parte di scherzi però sì sulla parte non è banale la parte di provisioning adesso Paolo l'ha fatta semplice perché è il top numero uno però la parte di provisioning non è così banale visto che noi ci lavoriamo io e Patrick avete sentito prima ci lavoriamo da un po' di tempo sono alcune cose che non sono banali da configurare nemmeno con le graf quindi immaginate voi c'è da entrare nel jason i valori dei parametri del jason a volte sono veramente pittoreschi diciamo così non è un argomento di tutti i giorni anzi averne parlato oggi jason office bootcamp secondo me è importante perché quando dicevete all'inizio della sessione è un argomento che da qualche anno ormai a partire anche da SharePoint ma adesso soprattutto con Teams gruppi Office 365 che è ancora più complesso l'argomento sulle aziende si stanno un po' orientando perché si sono un po' stufate di averci questi siti SharePoint creati a caso Teams creati a caso e tutto quindi hanno iniziato a mettere come ho fatto vedere le approvazioni piuttosto che appunto provisioning seri naming convention quelle peraltro richiedono se vuoi usare il nuovo out of the box functionalities richiedono di usare Azure Active Directory Premium quindi occio perché è una domanda ricorrente adesso non so se c'era o no in chat ma è una domanda che mi viene posta quasi sempre posso dare delle regole sui nomi dei team sì con i premium però con quello standard no a meno che non mi faccio io qualche accrocchio per non comprare la licenza premium e li devo valutare se mi costa di meno farmelo o comprarmi il premium però non vorrei parlare ancora dello sponsor ufficiale Easy Life però oppure usando di terze parti certamente assolutamente esatto ma perché noi in realtà abbiamo fatto questo prodotto qua per andare a colmare questi che non sono problemi di team se in realtà oddio ha sempre fatto così ma è stata alla fine cioè loro ti fanno il prodotto e poi ci sviluppi sopra le parti che mancano ma non è che mancano ma che non le fanno perché non possano coprire tutte ma certo loro lasciano una parte di funzionalità al partner ecosystem e ci sta così anche i partner nel senso buono del termine hanno la loro parte e il loro ruolo anche perché non si può pensare di fornire tutto out of the box per quanto Microsoft sia grande per quanto abbia risorse che sembrano infinite ma sono finite anche le loro risorse eh sì assolutamente assolutamente allora non hai altre domande neanche niente non ce l'hai ho provato ad aggiornare per vedere se c'erano devo rimanerci male no ce l'hai avuto già abbastanza dai scherzo no va bene forse si sono addormentati anche alcuni durante la sessione non lo so può essere no scherzo bellissima sessione a parte di scherzo come tutte le altre fino adesso sì è vero grazie ragazzi io penso a questo punto di ripassarvi la palla volete che condividi ancora un attimo il video studio di prima scherzo sì no se ci fai comment sul nostro github per favore così possiamo prendere spunto va bene qualcuno che scrive il codice bene perché io ho padri che perché fortuna scrive bene però se si aspetti il mio è un problema va bene no grazie ancora ragazzi grazie a tutti per la seconda sessione buon lavoro a tutti ciao